...perché quando il centro a destra viaggia unito, viaggia compatto, non solo si vince ma si governa anche molto bene, esattamente come ha fatto il sindaco di oggi in questi cinque anni, quindi io penso che i cittadini dell'acqua sapranno riconfermare questa vicenda al sindaco, è un grande motivo di attività di oggi, non ha il gesto di pregare, ed è il consiglio ovviamente, ma ci aspettiamo questo risultato e anche altre città, dove c'è il nostro territorio, a volte sui territori si raggiunge una maturità differenze, a quella nazionale, e quindi il territorio capisce che per il bene del paese, per il bene della città è importante guardare e navigare nella stessa direzione, se si naviga nella stessa direzione si riescono anche a poi ovviamente raggiungere gli obiettivi che uno si vuole per l'altro, e devo dire che questi cinque anni sono stati molto importanti per la città e il sindaco di oggi deve poter continuare anche nei prossimi cinque anni, proprio anche grazie al PNRR, quindi a questi soldi che arrivano dall'Europa e che devono essere messi nelle mani di persone competenti come PNRR.